In collaborazione con 3040imprese.it Autotrasporti Suma dal 1973 MyStyle Graphic Studio, Caro Vigno Mister Tateo al termine di questa prima gara, di questa nuova stagione in Coppa Italia un 4-4 con il Messabia è stretto forse? Sì, visto la gara sicuramente è stretto, siamo partiti un po' male, loro hanno meritato il vantaggio abbiamo regalato praticamente il primo gol, poi abbiamo sistemato un po' la situazione e secondo me a lungo andare meritavamo forse qualcosa in più noi certo se la vigilia mi avessero parlato di un pareggio ci avessero messo la firma perché comunque siamo partiti un po' in ritardo quest'anno, siamo ancora fuori condizione ci sono molti ragazzi nuovi, quindi non ero molto fiducioso per la gara di oggi poi durante la gara quello che avevo previsto non si è realizzato e ci è venuto l'accolino in bocca, purtroppo è andata male però perlomeno siamo in gara, ora c'è un ritorno sabato prossimo a Brindisi e abbiamo tutte le carte in regola per giocarci l'accesso ai quarti di finale Venendo poi all'inizio del campionato, tralasciando la Coppa Italia è comunque una competizione importante, quali saranno gli obiettivi di questa società e della sua squadra? Beh gli obiettivi sono sempre gli stessi, noi siamo nati sei anni fa per portare questo sport nelle nostre zone che prima non esisteva, quindi avvicinare sempre più gente crescere ragazzi giovani, abbiamo un settore giovanile florido quindi l'obiettivo è quello, io oggi avevo quattro under in squadra e l'obiettivo è portarne sempre di più l'altro obiettivo però ad oggi in queste categorie non è facile fare previsioni e cercare di migliorare il settimo posto dell'anno scorso che significherebbe playoff però in queste categorie ogni anno i valori cambiano bisogna vedere anche gli altri sul mercato come si sono mossi e quindi ad oggi una previsione per il campionato non sono all'altezza di farla però come progetto in linea di massimo è sempre quello, cresce ai nostri ragazzi se voi fate caso abbiamo 98 in porta, un ragazzo giovane di Ustuni che è un'età che normalmente si giocano gli allievi, gli agli uniores addirittura lui ha scalato, under 21 sta già in prima squadra e pare titolare quindi insomma stiamo rispettando la nostra tabella di marcia una doppietta che consente al Real Five di pareggiare una partita importante con la Messapia Prendisi in questa prima giornata di Coppa Italia quindi un momento importante è come, ci siamo allenati benissimo soltanto che il pareggio ci sta un po' stretto però dal modo come abbiamo giocato voglio dire al ritorno ce la giocheremo comunque come vedi questa Real Five quest'anno? è abbastanza positiva abbiamo preso un paio di acquisti buoni e dobbiamo migliorare sabato per sabato è stata una bella partita sul piano del ritmo è stata una partita un po' difficile soprattutto quando ci pressavano non vuole parlare della mia prestazione personale perché tutti i compagni hanno dato una mano a questa gara cioè non è stata semplice adesso sabato prossimo ci sarà un ritorno in casa del Brindisi sicuramente ci vorrà la Real Five migliore ci vorrà la Real Five migliore perché soprattutto su un campo come quello di Brindisi che è più grande rispetto al nostro pressando si riesce ad uscire meglio dalla pressione essendo molto più grande infatti quando siamo andati là l'anno scorso siamo stati un po' cioè ci hanno messo molto in difficoltà grazie a tutti grazie a tutti